Pace 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 È una buona cosa Come Come la panna Come Come la mamma Sì Come la mamma E poi la frase Se me lo dicevi prima No Quando è stata la prima volta Per una Per una volta sola Quella volta Non mi rimane che il suicidio Ma un suicidio assistito Un suicidio coi fiocchi Già Già mi vedo in tele Signore e signori Dagli studi di Teleradio Monteceneri Giambattista Cordiglia de Pigatto Vi augura la più cordiale Buonasera Anziano Tenta il suicidio Non ricordandosi più La frase del film Pronto Teleradio Monteceneri Pronto Teleradio Monteceneri Teleradio Monteceneri Dica Sì Non mi do pace Pronto 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 Teleradio Monteceneri Non mi do pace Non ricordo la frase Sì Non mi do pace Sì Sì Dica Non mi do pace Teleradio Monteceneri Sì 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 Non ricordo la frase Sì 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 Intanto Vi ricordo l'argomento culturale del giorno. Preferite la doccia oppure il bagno. Non esitate. Fatecelo sapere. Buonasera. Questo prodotto lava più bianco e invece quest'altro pulisce da sé. Se non vuoi avere la faccia a fette, tu devi usare queste lamette. E questo è davvero tutto. E io mi fermo qui. Assolutamente sì. Sì La frase è... Se quella volta... Se me lo dicevi prima... ... 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